Non ce l'ha fatta l'agricoltore settantenne che ieri ha perso la vita in seguito al ribaltamento del suo trattore. Una vita trascorsa in campagna, quella di Franco Benedetti, veronese di Lugagnano di Sona. È bastata una manovra sbagliata, unica forse di un'interesistenza, per spezzare l'equilibrio della vita del settantenne. Secondo una prima ricostruzione dell'ospisal, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, il contadino stava eseguendo un lavoro di pulitura delle erbacce con il diserbante, quando forse la perdita di controllo del rimorchio ha provocato rovesciamento del mezzo. Le chiamano morti verdi e da inizio anno sono già 16 casi sul territorio veneto. Un numero impressionante se si considera che gli incidenti nei campi ammontano a 46, solo nel 2017. Gli infortuni in agricoltura purtroppo sono in aumento, gli infortuni mortali, mentre come infortuni totali diciamo che siamo in diminuzione. L'agricoltura è il secondo settore per infortuni mortali, prima di tutto perché si lavora in un ambiente di per sé pericoloso, per la pendenza, per la situazione dei terreni che non sempre sono, come ho detto, pianeggianti, ma anche possono presentare dei fossi, degli ostacoli. Poi il secondo punto è che una volta che il trattore si ribalta, ci deve essere la protezione del posto di guida e la cintura di ritenzione. Ci deve essere una professionalità maggiore di chi utilizza queste attrezzature, che deve valutare sia la tipologia di terreno, che deve valutare anche se il trattore traina e che tipo di attrezzature traina. Poi sappiamo che i trattori, non tutti i trattori, si possono impiegare in taluni tipi di dipendenze. e il secondo aspetto più importante è che l'utilizzo dei dispositivi di protezione deve essere agevolato.